E' stato scoperto da un grosso protagonista della musica partenopea, chi ha scoperto questo illustro personaggio è stato Carmelo Zappulla, se l'ha presa discograficamente e l'ha portato a Napoli, poi l'ha portato a Napoli e ha preparato due 33 giri, io come lui e lui come me, ed è un disco che ha fatto un grande successo in tutta Italia, poi si è facciato e è stato scoperto da un altro personaggio, l'evidenza del Sosi uguale, uguale come tutti, è stato scoperto da Adriano, poi dopo tante trasmissioni televisive di cui quest'anno qua è partecipato a Domenica Inna, partecipando al film di Nino D'Angelo Celebrità, una settimana 5 stelle nazionale, signori e signori, a Mondragone, Nicchi Celentano! Nicchi Celentano, un buon Dragone! San Antonio, 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 un buon Dragone! Sai che cosa ti farei Sei molto bella sai che cosa ti farei Che cosa ti farei Se non fossi mia mi vorrei E che cos'ho io Ascoltarmi di te Non farmi busso te Tanto so che mi perdonerai anche se non ti va Ma perché ami uno come te A passare la luce e adesso vieni qui Sentirti mia mi piaci stiamo un po' così Mi accorto troppo un po' troppo Che bello sta con te Ma come lo sopporti uno come me Sei molto bella sai che cosa ti farei Che cosa ti farei Se non fossi mia ti vorrei Che cos'ho io Ascoltarmi di te Non farmi busso te Tanto so che mi perdonerai anche se non ti va Ma perché ami uno come me Che cos'ho io Che cos'ho io Che cos'ho lui Un episodio Che cos'ho invito Grazie a tutti